Ma come, nell'ipotesi che fossero lanciati, come venivano poi montati quelli di ritorno? Allora, si estraeva il binargo. C'è un argano lì sopra, se osservate, che permetteva di sollevare e di infilare poi il tubo di lancio. Vediamo un attimo, perché... Ma che conviene in funzione? Il tubo, questo qui è aperto, si può vedere... Ah, non l'hai visto? Chi è tu? Questo è il tubo di lancio.